Conquistato il castello e passato Santa Maria, finiamo questa giornata in gloria e la finiamo qui in questa famiglia che è sempre ospita in questo posto, ospita Carnevale ed ospita pure nel mese di agosto. E allora adesso noi ringraziamo, adesso che è cala del sole, ringraziamo Filippa e Ottamina e gli lasciamo un mazzoletto di viole. E se ora tu mi permetti, in questo giorno di Carnevale io e Ivo voglio augurare di organizzare una buona festa patronale. Bravo, 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 bravo. Auguro anche il centro di fare altri 100 Carnevali e Ivo e Filippa di fare altri 100 eventi culturali. a Zio Adolfo e Ottavina io auguro sempre la moglie embriaca e la bottepina e io ringrazio Zippa, la cui frappa spicca è buona come la picca Fabiano gli voglio lasciare adesso che parte militare di fronte a questa gente voglio che diventi un bel presidente e allora per finire in questo momento Cagli e Giulivo dopo aver ringraziato Filippo Ottavina un saluto pure al nostro amico Ivo e dopo aver detto questi concetti ricordo pure Adolfo con le sue botti li ricordo con affetto nel cuore perché sono sinonimo di ospitalità che solo a Girgenti ci possono incontrare